Buongiorno e benvenuti a tutti voi. Sono qui per apporgere i saluti del sindaco di Cologno, Mario Soldano, e di tutta l'amministrazione a coloro che a vario titolo saranno impegnati in questa giornata di discussione promossa dal nostro sistema bibliotecario. Cologno è felice di accogliere i partecipanti e per quanto mi riguarda mi sono premurato di declinare o di inviare qualsiasi altro incarico o impegno perché voglio trascorrere la mia giornata con voi e credo che trascorrendo la mia giornata con voi riuscirò a fare spero buon uso del mio tempo perché sicuramente imparerò molto di più qui che in qualsiasi altro luogo. Credo che sarà per me una giornata proficua perché sono un profano di tutte queste cose che il Presidente prima ci ha detto in maniera molto precisa e puntuale perché è il Presidente del nostro sistema mentre io faccio diverse altre cose. Leggere è attività come voi sicuramente sapete dalle molte facce. È arte, è piacere, è vizio, è virtù, è desiderio, è voglia, è rischio. Sto nel dato che dicendo i titoli di alcuni libri che voi sicuramente conoscerete meglio di me ed è condivisione. I gruppi di lettura immagino che nascano da questa volontà di condividere, di mettere in comune piaceri, emozioni, pensieri, giudizi, intrecci, trame, cornici e così via di seguito. È convivialità. È sedersi intorno a un tavolo rotondo come i famosi cavalieri e raccontare le proprie avventure di lettori. La scoperta di una pagina indimenticabile o smarrita come ci dice il nostro ufficio, come ci diceva prima il nostro amico Luca. La sottolineatura di un brano che apre una finestra sul mondo, l'intrico di una rete di concetti. È attività che si svolge, come voi sapete, in molti luoghi. Alcuni istituzionali, altri elettivi, altri occasionali. Si legge, ahimè, quasi sempre obbligatoriamente a scuola e noi spereremmo che nelle nostre aule scolastiche quei gruppi di lettura, tra virgolette, coatti che sono gli studenti, possono vivere questa attività in maniera molto più piacevole di quelle che purtroppo vivono ancora oggi più delle volte. Le scuole, i gruppi, le classi sono, come voi sapete, comunità, non solo appunto, ma sono possibilmente comunità interpretative, perché sono i luoghi in cui più si può svolgere questo tipo di attività. Si legge a scuola, dicevo, per piacere o per ricerca nelle biblioteche, per incontrarsi, per socializzare, a casa, si legge, in tram, nelle metro, nelle sale di attesa, per ingannarlo all'attesa, oppure perché proprio non riusciamo a scollarci, a separarci dalle pagine che ci stanno seducendo. Io penso che i concetti che tengono insieme tutte queste cose, che tengono insieme anche le nostre prospettive, compreso tutte quelle cose che diceva il mio amico Paolo, cioè sulle funzioni delle biblioteche e così via, siano fondamentalmente tre. Uno, educazione permanente, cioè learning, long life, apprendere per tutta la vita. Noi siamo società, ormai lo siamo diventati, in cui ognuno di noi, per poter essere cittadino attivo, deve continuare ad apprendere tutta la vita. Uno. Due, il leggere, che è tutta quell'attività che vi dicevo, ma è anche un'attività molto ampia, ancora più ampia, metaforicamente, perché si legge il mondo, si interpretano gli eventi, si leggono molte altre cose che non sono solamente il libro. Per cui il libro, che è la funzione importante delle biblioteche, che danno libri, dire, no? Ma ridurre le biblioteche a prestito non è mica possibile, deve essere le nostre biblioteche. Nessune del nostro sistema bibliotecario sono luoghi in cui si fa solamente il prestito, sono luoghi in cui si svolge, si svolgono molte altre attività. Quindi il learning, l'apprendere, il leggere, il reading e il comunicare. Per comunicare come? Perché anche il comunicare può diventare una comunicazione coatta, obbligata e magari infruttuosa. Il comunicare dei gruppi di lettura è sicuramente una comunicazione, un mettere insieme, mettere in comune delle attività che sono sicuramente più elettive, che sono sicuramente più libere. Quindi, io penso che la prospettiva del nostro futuro, il delineare del nostro futuro, significa cercare di far interagire tutti questi campi che in certi momenti coincidono, in altri momenti no. Attività che per certi versi sono anche istituzionalizzate, certe volte chiusi in gabbia, che secondo me non lo devono essere. Quindi il nostro compito principale, secondo me, è quello di far fluidificare, di ridentere come vasi comunicanti queste diverse attività che vengono distinte e che vengono svolti in diversi luoghi, in diversi momenti sociali. L'obiettivo principale, come diceva Paolo, di questa giornata di discussione è quello di scattare una fotografia, di costruire una mappa dei gruppi di lettura italiani, di redigere un bilancio del movimento e cercare anche di lanciare, come si diceva, quello di arrivare ad un coordinamento nazional di gruppi. Si tratterà di discutere di temi relativi al significato della lettura in comune, al rapporto fra gruppi di lettura e biblioteche, mi trovo molto consenziente le cose che diceva Paolo sul fatto che le biblioteche sono una casa comune per i gruppi di lettura, fra istituzioni i governi piccoli e grandi di questo paese che si chiama Italia, un paese che colpevolmente non attribuisce ai libri, alla lettura e più in generale alla cultura e all'istruzione il ruolo che meritano. Sottolineo, cultura ed istruzione, perché sono quei tre concetti poi che vi dicevo. Non solo la cultura è quella cosa che diceva Paolo, non è quella cosa che pensava Tremonti, è investimento, è il nostro futuro, la cultura e l'istruzione, però se si aprisse il capitolo delle scarsissime risorse destinate a questi campi, toccheremmo con mano, penso io, una delle ragioni del nostro purtroppo declinare e del nostro stare in Europa sotto condizione. Noi stiamo in Europa subiudice, come dicevano gli antichi padri. Sono contento che gli estensori del programma della giornata abbiano scritto nella notte introduttiva che ai gruppi di lettura ormai compete un passo europeo e sono contento che ci siano presenti tanti ospiti stranieri, tanti ospiti europei poi in fondo. Io penso che fare l'Europa, come un tempo si diceva fare l'Italia, abbiamo fatto l'Italia e bisogna fare gli italiani. Fare gli europei, costruire cittadini europei, cittadinanza attiva europea, sia uno dei nostri compiti sia come biblioteche che come scuole che come amministratori. Noi dobbiamo, lo dicevo prima Paolo, nel caso dell'Italia capire che siamo il paese dei comuni e quindi i comuni non vanno mortificati, perché l'Italia è l'Italia dei comuni, le province e le regioni sono state inventate dopo, noi siamo l'Italia dei comuni. Quando un cittadino va in giro per il mondo e dice di dove sei, gli risponde sono di Irpino, sono milanese, sono veneziano, non dice sono, come voglio dire, la regione, fa anche fatica a dire la provincia più delle volte, per cui noi siamo l'Italia dei comuni e l'Italia nazione, non solo una penisola geografica, ma l'Italia nazione perché ha una lingua, ha una storia, una tradizione, ha grandi autori che rappresentano la cultura del mondo, per cui noi abbiamo bisogno di stare tutti quanti noi dentro l'Europa e di fare i cittadini europei, di acquisire questa consapevolezza di cittadinanza Io penso che la biblioteca, le istituzioni culturali del nostro paese abbiano oggi questo compito prioritario rispetto a tutti. Ecco perché sono veramente contento che sia una giornata di discussione che abbia dentro di noi tutti questi ospiti e che i nostri gruppi di lettura abbiano questa dimensione, abbiano questo passo, come diceva il Deblian, questo passo europeo. Io non voglio farla lunga, per cui vi auguro buon lavoro, sarò un ascoltatore, un editore con voi e ringrazio come Paolo tutti coloro che molto diligentemente, con molta fatica e anche con molta motivazione e con molto entusiasmo e passione, si sono adoperati per far sì che questa giornata venisse organizzata e il lavoro che c'è sta dietro è effettivamente lungo. Grazie a tutti e auguri di buon lavoro.